questa mattina quando sono le 8 e 31 andiamo a pietrelcina è una città che c'è molto cara città d'origine del nostro caro e amato san pio e lo facciamo però non per parlare di un evento legato alla vita del santo di pietrelcina ma per parlarvi della nona edizione olimpiadi dei forum ecco lo vediamo vediamo questa immagine con il simbolo delle olimpiadi che si terranno appunto a pietrelcina l'edizione numero 9 per farci raccontare di che cosa si tratta siamo collegati con il presidente del forum dei giovani di pietrelcina simone crovella buongiorno simone benvenuto buongiorno a voi grazie allora simone partiamo proprio dallo spiegare ai nostri amici telespettatori che cos'è il forum dei giovani sì allora il forum dei giovani nasce in attuazione della direttiva della direttiva europea del congresso europeo della partecipazione dei giovani alla vita politica dei poteri locali e regionali il 21 maggio del 2003 e si vuole sostanzialmente in europa partire da questo concetto per diciamo far aderire far coniugare i giovani alla vita politica e quindi coniugare i giovani ai poteri amministrativi e poteri locali e creare quell'area di concertazione tra le varie associazioni diciamo del luogo quindi le varie associazioni locali insieme appunto all'associazione giovanile diciamo che in un certo senso è come se l'amministrazione e le altre associazioni dovessero in un certo senso istruire oppure educare i giovani alla ad una vita diciamo ad una vita civile ad un fare civile ecco e quindi nasce appunto viene messo nero su bianco dall'unione europea quindi vent'anni fa questa diciamo questa questa direttiva viene 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 malata e poi viene messa nero su bianco recepita in italia intorno al 2005 2006 poi mano a mano ogni regione adotta uno uno statuto e quindi ogni forum regionale perché da noi in campagna si chiama forum mentre nelle altre regioni ad esempio sono consulte regionali ogni consulta adotta appunto uno statuto che emanato appunto dalla regione di appartenenza quindi diciamo che quindi per chi partecipa per i ragazzi che possono partecipare per l'età insomma di partecipazione per la residenza e quant'altro quindi è per favorire proprio la partecipazione giovanile negli enti locali e allora quindi ti è stato molto chiaro da qui nascono le olimpiadi dei forum giunte alla loro nona edizione stiamo parlando in questo caso appunto di un evento che riguarda la regione campania sì allora le olimpiadi dei forum nascono appunto è un'idea di dei coordinatori delle province perché ogni provincia diciamo che è un coordinatore di tutti i forum della provincia e nasce appunto da un'idea di di questi coordinatori di creare con con diciamo la scusa tra virgoletta dello sport eh comunità quindi aggregazione e quindi confronto e soprattutto per chi viene dalle aree interne la restanza cioè il l'annoso problema eh del dei ragazzi appunto che abbandonano eh le aree interne e quindi eh mediante lo sport e quindi diciamo la la manifestazione sportiva più importante eh riconosciuta sono appunto è più storica più antica sono le olimpiadi quindi si è creata appunto le olimpiadi però dei giovani eh dei forum giovanili dei ragazzi sostanzialmente e quindi eh mediante appunto questa manifestazione eh i vari paesi i vari formali dei vari paesi partecipano eh quindi gareggiando in modo non competitivo e agonistico però eh mediante appunto lo sport ci si conosce ci si confronta eh e quindi è una manifestazione molto importante annualmente tra l'altro una cosa che eh molti ragazzi che partecipano a questa manifestazione che ormai sono dieci anni che 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 viene fatta eh parecchi ragazzi non non aspettano altro e quindi infatti dicevano tanto alcuni dicevano che le tre feste più importanti per loro erano Natale Pasqua e le olimpiadi dei forum quindi e questo è questa è una bellissima diciamo che una è una cosa bellissima perché eh è come se fosse una grande famiglia eh ogni anno eh diciamo che rivediamo eh rivediamo le stesse persone ma anche dei ragazzi appunto che crescono e quindi veramente una grande famiglia e e spero che comunque eh diciamo venga venga sempre di più supportata soprattutto dagli enti locali perché esatto perché di organizzare una manifestazione del genere comporta veramente tanto lavoro infatti noi partiamo eh già da gennaio nell'organizzazione quindi veramente c'è tanto tanto lavoro. Lo dicevamo prima a prima appunto di andare in diretta è importante anche una bella vetrina per la città di eh di Pietrelcina un po' emerso dalle tue parole eh Simone però con quali obiettivi quali sono gli scopi e eh principali del delle olimpiadi eh dei forum abbiamo anche visto un cartello che ci indicava i quattro punti eh tu parlavi anche appunto della restanza quindi aggregazione confronto sport e restanza. Sì la restanza diciamo che è prettamente anche se dai dati istat la campagna è la regione che perde più ragazzi in Italia eh e quindi per ragazzi si intende la fascia che va dai 16 35 anni eh però soprattutto nelle aree interne quindi nel nostro caso ad esempio nel beneventano vellinese eh la diciamo le persone eh l'emigrazione dei ragazzi è è un problema molto pesante e attraverso queste manifestazioni noi comunque cerchiamo di coinvolgere ehm di coinvolgere anche gli enti locali anche gli amministratori eh e creare appunto degli spunti per poter eh diciamo ehm creare qualcosa per affinché i ragazzi rimangano e quindi a volte durante queste manifestazioni ma anche ad esempio nelle ehm nelle conferenze stampa che anticipano questa manifestazione eh vengono invitati eh politici eh insomma personalità eh funzionari e quant'altro proprio per per parlare di di come eh poter risolvere questo problema che è veramente un problema eh soprattutto in campagna molto molto pesante eh perché ogni anno veramente ad esempio nel beneventano negli ultimi dieci anni hanno lasciato tredicimila da giovani la nostra provincia quindi eh che già è molto piccola perché conta duecentotrentamila abitanti quindi è veramente un grandissimo problema eh e poi ovviamente oltre alla restanza che eh appunto è eh diciamo una problematica eh da risolvere eh le altre diciamo gli altri obiettivi sono quelli eh come ho detto prima dell'aggregazione eh perché appunto spesso mh soprattutto soprattutto in questo periodo eh diciamo che eh e soprattutto durante il covid i ragazzi si sono molto isolati eh è molto complicato lo vedo io in prima persona riuscire a eh coinvolgere i ragazzi perché ormai si fa tutto in smart ormai è tutto eh diciamo eh svolto mediante un telefonino mediante un pc e quant'altro e quindi è complicato veramente eh riuscire a a cacciare fuori i ragazzi eh dal mondo virtuale e portare nel mondo reale quindi ehm creare questo evento è anche una sorta di eh diciamo di togliere i ragazzi insomma da eh dall'isolamento eccomi ovviamente questo termine per per poter per far sì che appunto i ragazzi possano eh diciamo semplicemente dialogare perché sembra una cosa banale ma ai ragazzi manca anche il dialogo cioè semplicemente banalmente il dialogo e quindi eh anche anche creare dialogo anche creare eh confronto in presenza quindi confronto dal vivo e quello è fondamentale confronto eh già è già una grande cosa per i ragazzi e quindi eh anche eh sorge diciamo anche a questi a questi altri a quest'altro obiettivo e poi ovviamente lo sport che eh diciamo è l'emblema della manifestazione ovviamente eh certo ci sono tanti ragazzi e comunque lo fanno in modo competitivo però comunque uno si gioca si gli sport sono molto tranquilli molto eh ecco quali saranno gli sport che saranno protagonisti insieme a voi giovani di queste olimpiadi abbiamo anche un cartello che ne riassume alcuni allora sono prettamente sport che si che si svolgono le olimpiadi tipo l'atletica eh dove però la quota femminile è importante nel senso che all'interno di ogni disciplina deve obbligatoriamente esserci una quota femminile delle categorie femminili e gli sport sono appunto l'atletica il calcio il tennis la pallavolo eh il laser tag eh il dodgeball le freccette eh calcio balilla eh bocce eh dama scacchi ping pong insomma tutti gli sport olimpionici in più ci sono anche eh dei nuovi sport come per esempio il fireball che è uno sport che eh diventato molto eh importante in America e che sta diciamo sta iniziamo a prendere piede e eh poi eh i giochi eh pietrelcinesi diciamo così giochi che si facevano una volta qua eh pietrelcine e li riproponiamo eh li riproponiamo l'ultimo giorno proprio per per di conclusione ecco l'ultimo giorno di conclusione proprio per per lasciare un segno un segno alla manifestazione. Sono certa che poi i ragazzi che verranno riusciranno anche a fare un giro per il meraviglioso centro storico di Pietrelcina e visitare i vari monumenti di interesse. e eh non abbiamo detto una cosa importante ma non l'ho fatto io le date eh dell'evento e poi come fare per parteciparvi se qualcuno è ancora in tempo se c'è un'età limite? Allora le date e iniziamo con il 25 che è praticamente la giornata inaugurale quindi non si farà alcuno sport è solo l'accensione della fiaccola e poi dal 26 al 28 luglio ci sono le attività eh le attività eh sportive eh il tutto poi verso le 18 insomma quando termina l'attività c'è la possibilità di eh visitare il paese quindi mettiamo a disposizione anche eh diciamo dei servizi per per far sì appunto che le persone visitino il paese e eh e poi c'è un po' di intrattenimento insomma per per tutti per tutti i ragazzi. È possibile ehm dormire in tenda perché predisponiamo un'area campeggio e la consiglio personalmente perché eh crea ancora di più quella quell'aggregazione appunto che è uno degli obiettivi cardinei di questa manifestazione e eh oltre ovviamente ai ai vari b&b e alberghi insomma che possano ospitare i ragazzi e eh c'è ancora tempo non molto perché ripeto già eh già adesso ci sono state tantissime iscrizioni eh siamo arrivati quasi a 500 ragazzi e ehm diciamo che c'è un modulo insomma da da compilare e insieme ovviamente al a tutto il forum del 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 paese insomma eh rappresentato e ehm e poi ovviamente basta si potrebbe anche seguire la pagina olimpiadi dei forum official che appunto eh spiega perfettamente eh in ogni dettaglio come eh come venire a Pietrelcina, dove poter risiedere e quant'altro. Inoltre noi stiamo anche predisponendo della pubblicità infatti eh è già partita insomma la pubblicità nei vari sui vari social e eh anche tramite radio eh dove appunto si spiega precisamente come avverrà la manifestazione e eh tutti diciamo tutti i programmi, tutti i punti. Dettagliatamente tutto il programma. Intanto vediamo questa bella immagine il forum dei giovani di Pietrelcina. La squadra potremmo dire utilizzando appunto un termine eh sportivo che ha organizzato, promosso questa edizione. Allora Simone ti ringraziamo per essere stato con noi. Eh magari appunto digitando su un qualsiasi motore di ricerca, forum dei giovani di Pietrelcina o non edizione, olimpiadi dei forum oppure se volete chiamate in redazione vi daremo tutte le informazioni. C'è ancora tempo per partecipare a questo importante evento. Ti ringraziamo di cuore e ti auguriamo buon lavoro e buon olimpiadi a te a tutto il forum dei giovani di Pietrelcina. Grazie mille, grazie mille, buona giornata. Grazie Simone Crovella. Allora andiamo in pubblicità e poi torneremo di nuovo insieme per andare ad allenarci ma naturalmente dedicheremo ampio spazio anche alle ultime notizie e all'approfondimento del giorno. .